robotica e protesi di ginocchio perché mi piace perché la uso e perché penso che sia una delle più grandi evoluzioni nell'affrontare i problemi di ortopedia in particolare gli impianti di protesi ma prima di iniziare vi invito se vi piace questo contenuto a iscrivervi al mio canale e a mettere mi piace a questo video bene oggi parliamo di robotica innanzitutto vediamo che cosa significa questa parola robotica e perché è così importante per noi fare informazione su questo tipo di chirurgia la robotica è un'assistenza esterna in modo che il chirurgo possa eseguire un intervento aiutato a realizzare esattamente il piano chirurgico che aveva in testa una delle obiezioni che si fanno più spesso a questo genere di chirurgia è va bene allora il chirurgo non conta più niente se è un robot che fa l'intervento a che cosa ci serve affidarci al miglior chirurgo che conosciamo in realtà questo è proprio un sesto senso e una appendice in più al chirurgo che migliora ulteriormente le sue capacità intellettuali e di azione chirurgica cioè sarà sempre il chirurgo a scegliere come mettere la protesi sarà sempre lui a valutare e bilanciare perfettamente sul vostro ginocchio questo impianto ma questo avverrà con un aiuto che toglie l'ultimo anello della possibilità di errore come funziona normalmente un intervento di protesi al ginocchio di cui stiamo parlando oggi funziona che il chirurgo valuta il suo paziente in ambulatorio capisce qual è la deformità e il problema legato all'artrosi a livello di questa articolazione e poi comincia sulle radiografie a pianificare quale per lui è la migliore soluzione a quel problema ci si aiuta ormai oggi con dei planning che vengono fatti computerizzati per stabilire quale sia il migliore orientamento dell'impianto poi si va in sala operatoria dove il chirurgo con tutte le sue capacità e la sua esperienza cerca di riprodurre quel piano che aveva preventivato a livello di planning preoperatorio nella riproduzione di questo piano viene aiutato da strumenti esterni che sono delle guide che consentono di orientare i tagli dell'articolazione in modo che l'impianto venga esattamente come quello che è stato pianificato ebbene in questo anello c'è poi uno strumento che deve entrare in queste guide e tagliare con l'orientamento giusto dato da queste guide di regolazione esterna ebbene questo ultimo anello è quello che può indurre degli errori tecnici legati agli strumentari quindi per quanto sia bravo chirurgo per quanto sia attento quel giorno la guida può muoversi leggermente quando viene fatto il taglio può non riprodurre esattamente quello che il chirurgo cercava la robotica toglie l'imprevedibilità di questo ultimo anello dando al chirurgo la possibilità di eseguire in maniera corretta anche l'ultimo anello perché l'ultimo anello viene eseguito da un braccio robotico che ha una precisione elevatissima per il fatto che conosce la posizione nello spazio dell'articolazione data da una tacca tridimensionale che viene salvata all'interno della macchina e ha un braccio che si posiziona esattamente preciso per come il chirurgo vuole fare l'intervento quindi il chirurgo continua a essere il centro dell'operazione perché tutta la parte intellettuale che porta al miglior posizionamento della protesi per quel paziente continua a essere fatta sempre dal chirurgo con le qualità di quel chirurgo li toglie soltanto l'ultimo anello di possibilità di errore oltre a tutto questo la robotica permette anche di valutare la tensione che l'impianto avrà per quel paziente anche dopo anche prima di aver eseguito i tagli quindi diciamo permette di correggere l'orientamento delle componenti per dare una tensione e una stabilità ottimale all'impianto prima ancora di decidere i tagli e con la possibilità quindi di correggerli millimetricamente se questi tagli non riproducono una buona funzionalità per il nostro paziente quindi diciamo la robotica è un'arma in più è un'arma in più nel taschino del chirurgo non tutti gli interventi che vengono spacciati come robotici sono effettivamente robotici esistono varie forme di aiuto intermedie tra la guida che viene posta all'esterno del ginocchio con tutto suo margine di errore e degli aiuti per posizionare meglio quelle guide quella cosa si chiama navigazione è comunque un aiuto per il chirurgo e non è certo meglio che niente però la robotica in realtà è un po di più di questo è una riproduzione esatta del planning del chirurgo che non dipende più da guide che vengono posizionate sul ginocchio ma dipende esclusivamente dall'identificazione del dello scheletro del paziente sulla base di una ricostruzione tridimensionale e il corretto orientamento degli strumenti che ci permettono di preparare l'articolazione sulla base di una guida robotica che diciamo ha un margine di errore trascurabile bene detto questo cosa ci permette di dire la letteratura scientifica su questi interventi robotici beh di sicuro che ci permette di dire che hanno una riproducibilità molto elevata cioè gli interventi escono sempre tutti precisissimi rispetto al planning che si era fatto non sappiamo ancora quanto questa precisione di impianto si rifletta sul lungo termine in una più più lunga vita dell'impianto cosa che è probabile ma non ancora dimostrato o su una minor tasso di complicanze cosa ancora da dimostrare è chiaramente molto intuibile che tanto più una cosa è precisa nel suo posizionamento nella tecnica con cui viene posizionata tanto più probabilmente la cosa si rifletterà anche sul miglioramento degli altri parametri degli score quello che vediamo stabilmente è un riflesso nella nostra attività quotidiana della precisione dell'orientamento e della precisione della tensione legamentosa sulla naturalezza con cui il ginocchio operato si sente cioè questo equilibrio nella bilanciamento legamentoso si riflette anche in un ginocchio che sembra molto molto più naturale è possibile fare lo stesso ginocchio naturale anche a mano libera sì certamente tanto più chirurgo è sensibile preparato e nel giorno dell'intervento tanto più le guide vanno esattamente dove le vuole lui tanto più questa cosa è possibile anche a mano libera il robot cosa aggiunge la riproducibilità cioè il fatto che a prescindere dalla giornata la pianificazione dalle guide quella protesi verrà sempre riproducibilmente come il chirurgo la pensata quindi diciamo non c'è più una lotta tra il chirurgo vecchio stile mano libera e il chirurgo nuovo stile ma tutti si andrà piano piano in una direzione di un gesto più controllato e più riproducibile anche a vantaggio di un sistema sanitario che ridurrà il tasso delle complicanze in questi interventi bene quindi per riassumere oggi abbiamo parlato di robotica e prozzi di ginocchio e vi ho spiegato il motivo per cui preferisco questo genere di tecnica specialmente per pazienti molto giovani e molto attivi in quanto ci consente di ottenere dei risultati riproducibili esattamente come li avevamo pianificati con questo è tutto vi ringrazio dell'attenzione e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi mettetevi mi piace a questo contenuto arrivederci a presto su chirurgia articolare a presto